Perché installare il cartongesso idrofugo? Il placo idrofugo è una lastra di cartongesso impermeabile e resistente all'umidità del marchio placo. Questo materiale è molto popolare per la sua efficienza, forza e durata. Di cosa si tratta esattamente? Scopriamo insieme perché si dovrebbe usare il cartongesso impermeabile, per quali stanze della casa è ideale e quanto costa. Cos'è il placo idrofugo, ovvero la lastra di cartongesso che resiste all'umidità? Le lastre di placo idrofugo, noto anche come placo, sono delle lastre di cartongesso, che è di base un materiale poco costoso, per creare separazioni in casa, come delle pareti, e come materiale isolante per i muri o per il soffitto, come rivestimento. Non tutte le lastre di gesso sono impermeabili, ma quelle che lo sono, dopo un trattamento che le protegge da acqua e umidità, presentano delle qualità indiscutibili. Il termine idrofugo si riferisce semplicemente alla qualità di un materiale di fare resistenza all'umidità e all'acqua in generale. Per una parete in una stanza umida, per esempio, una lastra idrorepellente è una soluzione interessante, a differenza del pannello. Va 13. La lastra idrofuga resiste al vapore acqueo per anni. Ovviamente, il prezzo è di conseguenza più alto, ma questo viene ripagato dall'alta efficacia contro l'umidità. La formidabile efficacia del cartongesso idrofugo contro l'umidità, un flagello per la casa e problemi di muffa nascono perché l'umidità tende ad infiltrarsi nelle diverse stanze della casa, nonostante i vari sforzi per arieggiare e ventilare. Le conseguenze possono andare dal disagio alla malattia, passando per le allergie, un infragilimento della struttura abitativa e la proliferazione di funghi. Per questo sono stati sviluppati materiali impermeabilizzanti che sono in grado di combattere l'umidità interna. Il placo idrofugo può essere usato come rivestimento di pareti divisorie o di soffitti, e i pannelli sono disponibili in varie dimensioni e possono essere adattati a qualsiasi situazione. Tuttavia, la sua efficacia dipende anche dal rendimento idrorepellente della lastra, H1, H2 o H3, in ordine dalla meno alla più resistente all'umidità. Di cosa è fatto il cartongesso impermeabile? Il principale materiale che compone il cartongesso è ovviamente il gesso, ma a differenza delle lastre convenzionali questa presenta anche uno spesso strato di cartone e un altro di silicone. Si stima che la resistenza di un tale materiale sia in media 6 volte superiore a quella di un cartongesso convenzionale. Queste lastre impermeabili sono di solito di colore verde o bianco a seconda della marca, ma possono anche essere dipinte con vernice resistente all'umidità. Placo idrogufo, ideale per stanze umide. Nei bagni, nelle cucine o in qualsiasi altra stanza dove l'umidità può raggiungere rapidamente un livello eccessivo, l'intonaco impermeabile diventa necessario. Il più delle volte, il cartongesso impermeabile viene utilizzato per rivestire le pareti del bagno, la stanza con il più alto tasso d'umidità. Non c'è da stupirsi. Non è sempre facile diminuire la quantità di vapore acqueo presente nell'aria all'interno del bagno, quindi tanto vale proteggere efficacemente le pareti e il soffitto con un materiale come il cartongesso impermeabile. Anche le zone non riscaldate e quindi fredde come garage, cantine e soffitte o le massarde possono essere luoghi con un alto tasso di umidità. Anche per quanto riguarda questo tipo di ambienti il cartongesso impermeabile risulta essere la soluzione ideale per la sua alta resistenza all'umidità. Eseguire i lavori per installare i fogli di cartongesso impermeabile può essere complicato. Fortunatamente, la maggior parte delle grandi marche propone diverse varianti che possono adattarsi a ogni angolo del bagno o della cucina. Una cosa è certa, trascurare i rischi di umidità su tramezzi, pareti o soffitti può essere molto negativo a lungo termine. È meglio fare un piccolo investimento se si vogliono evitare complicazioni future, anche se questo significa spendere un po' di soldi. . Qual è il prezzo del cartongesso idrorepellente? I fogli di cartongesso idrorepellente sono una soluzione interessante per molte stanze della casa, grazie alla loro capacità di contrastare efficacemente il problema dell'umidità. Vista l'importanza di questa raccomandazione, qual è il prezzo da considerare per queste lastre? Il costo ne vale la pena? Questo è il punto. Anche se potete benissimo immaginare la risposta. In primo luogo, il prezzo del cartongesso in sé. Il prezzo del cartongesso impermeabile varia di solito tra i 3 e gli 8 euro al metro quadro. Il tipo di cartongesso richiesto influenzerà questo prezzo. Per esempio un cartongesso per un soffitto costerà di più di un divisorio verticale. In secondo luogo, il prezzo dell'installazione delle lastre anche se è possibile installare da soli il proprio cartongesso impermeabile. È consigliabile rivolgersi a un professionista. Se vuoi installare le piastre da solo, dovrai comunque comprare il materiale di installazione per qualche decina di euro. Per assumere un gessista, sì, questo è il nome di questa professione, spesso sinonimo di intonacatore o stuccatore, preparati a pagare circa 30 euro 40 per metro quadrato di cartongesso. In questo modo potrai star sicuro di non incorrere in eventuali rischi per l'installazione. Molto più di un semplice materiale isolante, il cartongesso impermeabile è una vera e propria barriera contro l'umidità. Il prezzo dell'installazione risulta quindi più elevato del prezzo del cartongesso stesso. Non esitare a chiedere preventivi a diversi professionisti prima di prendere una decisione. Il prezzo del cartongesso idrorepellente varia di poco, ma il prezzo dell'installazione può fare la differenza.